Oh, ma tu sei proprio una zecca, lo sai? Ma io non mi sono nemmeno vestita adatta, guarda come sto! Ma batti che sei perfetta! E tu son ruffiano! Dai, che lo so che ti manca il fashion del palcosceni! Ma che ti pensi che siamo a Broadway? Meglio! Il ventilatore mio ci sta ancora? Il modello Jennifer Lopez con le palle da un metro e mezzo? Sta nel magazzino! Scusate se mi sono stancato dal privé! E Gloria dov'è? Stasera è una sera molto speciale, eccezionalmente, solo per questa notte, il ritorno a casa di Gloria!